C'è bisogno di un intervento strutturale sulla normativa che noi stiamo cercando di fare, di realizzare nel decreto clima che andrà in Consiglio dei Ministri la prossima settimana, dove è prevista una specifica norma proprio sull'End of West per rendere più rapide le autorizzazioni, ma nello stesso tempo per rafforzare il sistema dei controlli. Ed è su questo che stiamo mettendo a punto una normativa che consentirà, ci auguriamo, di dare maggior sviluppo a questo settore, di consentire lavorazioni più estese e più intensive in un quadro di regole e di certezze per le imprese.